Il nursing lancia l'allarme durante il periodo natalizio sicuramente ci sarà un allarme nella assistenza ai pazienti soprattutto perché manca personale infermieristico, è così? La carenza ci sta, comunque noi stiamo valutando di prendere qualche persona a tempo determinata appunto per far fronte a questa esigenza impellente che si verrà a determinare con le festività natalizie e cercheremo di evitare che vi siano ricadute assistenziali nei confronti dei pazienti e dei reparti noi ci stiamo lavorando a tutto spiano e per di più adesso il 16 gennaio faremo il concorso infermiere affinché riusciamo a cercare di tamponare definitivamente questa problematica Dunque le preoccupazioni del nursing possono essere riviste o comunque ridimensionate? Non ridimensionate, noi ci stiamo lavorando, loro ovvio che cercano di sostenere quelle che sono le motivazioni loro stanno direttamente sul campo e vedono le problematiche che effettivamente ci sono ma che noi in tutti i modi stiamo cercando sia nel periodo estivo, l'abbiamo tamponata e cercheremo di farlo anche adesso Quante sono le unità che bisognerebbero aggiungere allo staff già in servizio? Ma ci hanno fatto, ne mancano tante però penso che con 20-30 unità riusciremo a tamponare bene questo momento Con il concorso del 16 gennaio la situazione poi dovrebbe migliorare e non dovrebbero verificarsi altre situazioni come questa? Migliorare e soprattutto cercare, visto che è a tempo indeterminato, completare l'organico al massimo, quello che possiamo fare Il resto non è soltanto il personale infermieristico che l'ASL di Teramo assumerà ma ci sono anche altre figure Tante figure, soprattutto le figure primariali, apicali, ne saranno 14 o 15, non ricordo con esattezza Personale tecnico e personale sanitario, tutte le figure sanitarie che mancano e mediche cercheremo di portarle a termine e completarle Abbiamo fatto un piano di assunzioni che la regione a giorno ci rimetterà a disposizione e provvederemo a fare tutto Grazie per la visione! Grazie per la visione!